Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Salve a tutti ragazzi e benvenuti nel dodicesimo episodio della Challenge Lock a Pokémon Heart Gold. Ragazzi nello scorso episodio siamo giunti a Mogania e siamo andati a catturare o almeno ci abbiamo provato fra tante virgolette il Garridos Rosso. Poi in realtà non era randomizzato e quindi balsata la cattura ma nello scorso episodio è morto ragazzi Barry che si è riunito con noi tipo lo stesso episodio lì. Però vabbè questi sono dettagli no non proprio lo stesso però diciamo che era appena subentrato nel team e purtroppo è morto. Ma ragazzi io ho allenato Ghibo non ho ancora scelto il soprannome per lui è già evoluto in Gabite tra l'altro gli toglierai il condivido esperienza. E nulla consigliatemi altri soprannomi qua sotto nei commenti perché non ho ancora deciso quindi se avete qualche altra idea mettetela pure qua sotto. Ragazzi la Challenge di oggi è un suicidio è un suicidio perché allora non potevo scegliere Challenge sulle catture perché oggi di catture non ne faremo. Ho scelto la Challenge che veramente mi viene mi vengono gli infarti non potrò switchare Pokémon durante le battaglie cioè vuol dire che devo finire una battaglia con un Pokémon. Questa è la fine questa è la fine detto ciao ragazzi Gabite è forte Gabite è forte ve lo posso assicurare un ottimo Pokémon ma io mi sto cagando letteralmente in mano. E ora che ci penso io forse non ho neanche le pozioni quindi all'inizio dell'episodio giustamente vi faccio perdere un po' di tempo andiamo a prendere le pozioni così vi salo un pochino di quell'hype. Comunque ragazzi la serie si è stranamente ripresa quando ho detto che era crollata. Io sinceramente non riesco più a capire come sta andando YouTube i feed che lascia. So solo ragazzi che per aumentare il numero di feed gli algoritmi di YouTube prevedono che a una maggior quantità di like il video arriva a più persone. Quindi ragazzi anche per diciamo sostenere la serie in termini di diciamo visualizzazioni lasciate un bel mi piace come fate sempre mi raccomando continuate così e consigliatevi tantissime altre challenge nei commenti. Occupato questo spazio di video inutile con questa cosa possiamo andare all'interno del Rifugio Rocket. Rifugio Rocket che è questo qua che adesso verrà sgominato da Lance ora vedrete con i vostri occhi. Ecco qua Lance il suo Dragonite cittato ragazzi. Dragonite iperraggio. E tipo gli tiro una testata tutto bello come pensavo da qui partono onde elettromagnetiche anomale. E cammina grandissimo dai figlio allo caro spostati ok perfetto allora la scala si trova sotto un armadio d'oro cioè voi ditemi se c'è che poi penso sia un armadio non lo so. Sta di fatto ragazzi che possiamo scendere ora questo è un dannatissimo inferno. Ci saranno sempre le solite due reclute che interverranno ogni volta che passeremo davanti a una statua. Io quando giocavo per i cavoli miei le battevo tutte cioè nel senso passavo davanti a tutte le statue per a... Tu mi stai vagamente pigliando per il culo. Vagamente eh vagamente guardate che è veramente fortissimo. Arriveranno sempre le solite due reclute a romperci le balle. Io ripeto se fossi nella mia avventura normale passerei davanti a tutte le statue. Per non farvi tartassare i coglioni non lo farò. Comunque li shota tutti c'è una cosa allucinante ve l'ho detto che è veramente un gran pokémon. Vedete che gli occhi si spengono questo vuol dire che la statua non è più attiva. Ora dovrebbe esserci un pulsante di disattivazione che dovrebbe essere esattamente qua sotto. Ripeto io le farei volentieri tutte anche perché ho bisogno di un po' di allenamento sinceramente. Ma non le farò e proverò ad allenarmi un pochino fuori parte. Che ci devo fare? Vespi Queen contro... Ok ricordiamoci raga che non posso switchare. Però in compenso c'ho le pozioni che saranno utili. Retromarcia... Eh basta! Ok scusami non volevo mandarlo giù ti prego perché questo qua mi fa una mossa di drago mi shota. Gle... Merda 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 merda. Ok! Ok! Raga meno male che Gabite è fortissimo perché questo qua mi avrebbe fatto una mossa di ghiaccio ma avrebbe seccato. Ora... Cosa? No vabbè! No vabbè! No vabbè! È troppo forte! A parte il fatto che non voglio utilizzare il mazzuolegno in questo episodio perché è molto rischioso ma raga è troppo forte. Ora devo scegliere un Pokémon che non abbia troppe debolezze. Ci ho pensato adesso. Io raga andrei di strength. Strength ha poche debolezze raga. E volendo se la può giocare sul veloce. Pietra... Pietra ovale. Perfetto. Proprio bellissima la pietra ovale. Tra l'altro... Oddio. No non penso sia quella per chance sapete? Perché se è quella per chance io effettivamente ho un chance e potrebbe tornarmi utile in un qualche modo. Adesso lo scopriamo subito. No fa evolvere. Sapete che io non ricordo assolutamente chi faccia... Io devo premere un pulsante però. Io non ricordo assolutamente chi faccia evolvere la pietra ovale. Scrivetemelo qua sotto nei commenti raga. Interruttore nascosto. Sì proprio c'è dietro un PC probabilmente. Proprio antisgamo. Ok perfetto possiamo proseguire. Ora le statue dovrebbero essere tutte disattive. Sì infatti è così. Allora esploriamo un po' la zona. La strabacco. Cioè praticamente è un... Vabbè non lo dico. Proseguiamo... Splendisfera? Questo dovrebbe essere palchia se non ricordo male. Esatto. Vediamo quanto è poco volo raga. Ok perché ragazzi qua dentro... Ora ci ho riflettuto adesso. C'è come la cattura qua dentro. Qua si può fare una cattura. Attenzione vediamo chi ci viene fuori. Aiuto nel rifugio Rocket. Ok no non è randomizzata quindi non balza. Perfetto. Oh che bello raga fuggire dai selvatici. Non sentite proprio quell'emozione fantastica di... La smetto. Ok possiamo proseguire per queste scale. Qua ci sarà Lance che se non sbaglio mi cura pure i Pokémon. Non vorrei spare una cagata. Va tutto bene? La tua squadra è maridotta. Tieni un po' di rimedi. Grazie. Non è che mi dà le pozioni che mi sarebbero più utili. No mi cura i Pokémon. E c'ho tutti gli HP. No grazie sei veramente un idolo. Ok ciao recluta. Ora sarebbe meglio affrontarne il meno possibile perché la challenge raga mi fa paura. Mi fa paurissima. Soprattutto per i boss io mi sto cagando letteralmente addosso. Ok finché hanno Merrill va benissimo. E appunto dicevo che sarebbe meglio affrontarne il meno possibile. Possibile. Da una parte. Ma dall'altra sarebbe meglio affrontarli tutti per potersi allenare. Ora è tipo un dubbio iperbollico. Io che cazzo faccio? Cioè allora quelle che devo sfidare per forza. Tipo sto energumeno di fianco agli scatoloni. Li sfido. Per carità non è che posso sovvertire le leggi del mondo Pokémon. Però non so gli altri sinceramente. Questo episodio andrà benissimo ragazzi. John Frog c'è appa... Cheat. Adesso mi muore tutta la scuola. Perdo la challenge. Questo episodio ragazzi andrà benissimo perché c'è apparso lui il mitico. Basta Lance però ti prego. Allora qua ci sarà ad ottenere le password che sono di un'intelligenza e di una cultura incredibile. E quella persona è un genere... Esatto. Dobbiamo andare a... Allora qua se non sbaglio la storia era che dobbiamo andare a Damaxus. Che tipo scappa o una roba del genere. Però poi c'è il corvo che... Che dovrebbe dire la password esattamente con la sua voce. Se non sbaglio una delle password eri tu vero? Cioè non è che è lei la password però mi dà la password. Oddio Tentacruel. Ok noto con piacere che i Pokémon delle reclute sono leggermente più scarsi del previsto. Aerodactyl bella con Surf. Ecco. Strength c'è anche un moveset abbastanza vario per quanto riguarda i tipi. E quindi ci potrebbe essere davvero utile. Rocciotomba. Aia. Muori. Ok perfetto. Tra l'altro non ricordo se era qua o la Sylph di Kanto che si potevano curare i Pokémon da qualche parte. Tipo dei letti, una roba del genere. Siamo a 7 minuti. Perfetto. Koffing. Questo Pokémon raga voi sapete che mi perseguita ogni challenge. Sbricio il mano. Temevo fosse sinceramente di tipo lotto e mi stavo già cagando addosso. Ok perfetto. Nazly fa casa. Ok ho a Strength al 33. Blur mi preoccupa molto perché ha tante debolezze. Cioè è psichico, terra e poi è scarsino. Proviamo a metterlo. Anche se non mi fido tantissimo sinceramente. Sta di fatto che nel nostro team forse è quello più scarso in questo momento. Poi diventerà Strength il più scarso. Frauto Blur. Ma in questo momento forse lui è il più scarso. Quindi ti voglio bene Blur. Ti voglio tanto bene. Ma se dovessi scegliere un Pokémon da far schiattare. In questo momento forse sceglierei te. Mi dispiace. Sarà una persona cinica ma mi dispiace. Ciao scienziato. Dimmi che era quello lì in alto a sinistra. Quello della password forse. Oddio Gastrodon. Chi mi ricorda? Questo mi ricorda Camilla. Vaffanculo non posso fargli nulla. Oh però abbiamo Cova Uova. Raga Cova Uova potrebbe esserci utile per lo stalling ignorante. No non sostituto. Muori. Dolce Scu... Sì ah raga ok è ritardato. Come ha fatto a non morire quel sostituto? Questo è scemo raga. Si sta suicidando. Ma come non muore il sostituto? Guarda se non si droga sto Gastrodon. Raga lo sa solo lui che cazzo sta facendo. Vabbè perfetto. Ora questo qua dovrebbe essere l'altro della password ragazzi. Speramb perché altrimenti... Tu vorresti sfidarmi se è fuori di testa ma hai fegato. Mi piace se mi batti. Uuuuh sono un genio per piacere. 200 like per aver azzeccato. No non ve li chiedo però sta puttanata. Skiplum perfetto. Ciao a casa è stato un piacere. Ok Skiplum raga è tipo la vittima perfetta per il nostro blur. Baccambutan. Crescik. Non lo so altro. Un... Un non lo so. Un coccio rosso. Non ce l'hai un coccio rosso. Grande strumento del mondo Pokémon. Ok. Oh guardate cosa vedo lì. Gli Electrode. Anche gli Electrode ragazzi non saranno randomizzati. E quindi secondo le regole che mi auto impongo io ad ogni challenge come un povero idiota. Non catturerò i Pokémon. Tanto raga anche se avessi preso un Voltorb penso che non l'avrei mai usato. Poi come cazzo lo chiami un Voltorb? Forza recluta. Vediamo un po' cosa sei in grado di fare. Parte la sfida di Rachel Artisan. Io come la netta... C'è un problema. C'è un fottutissimo problema. Io... Non so come... Come fare. Devo stallare... E sperare... Di arrivare allo scontro e di vincerla. E sinceramente non so neanche come gestirmi in editing. Allora... Inibitore. Devo utilizzare un po' di inibitore a caso raga. E poi andare di cova uova. Mi dà fastidio tagliare perché poi sembra quasi che citti, no? Quindi non... Cioè essendo un Azroch mi piacerebbe che le battaglie voi le vediate. Però d'altro canto vi romperete il cazzo. Quindi non lo so. Cosa potrei raccontarvi in questo momento di vuoto cosmico? Non lo so. Allora ieri stavo studiando filosofia, no? E... Descartes stavo studiando. Descartes, no? E mi ha fatto paura. Perché lui dice praticamente che... La saggezza si raggiunge nel momento in cui si controllano le passioni. Però è bruttissimo perché... Se noi fossimo veramente in grado di controllare le nostre passioni... Allora, cioè, non esistono... Cioè, di fondo non esiste il vero amore o l'odio. Ma esiste solo la volontà di amare o di odiare. Quindi, cioè, voi non odiate veramente ciccio gamer, per dire. Ma siete solo autoconvinti di odiare. E secondo me è una cosa bruttissima. Perché poi ovviamente... Cioè, è come dire che non esiste l'amore. Ma è un'autoconvinzione nostra che ci imponiamo, fra virgolette, siccome riusciamo a dominare le passioni, di amare. E quindi, boh, è una cosa bruttissima. Ma mi ha fatto paura perché... Cioè, è proprio brutto vedere un mondo così, no? Nel quale è tutto finto perché noi controlliamo le passioni. Allora non esistono di fondo queste passioni. Cioè, esistono ma sono come uno schiavo. Non so come spiegarlo. Cioè, proprio schiavizzate a noi. Ok, perfetto. Sono riuscito a tirare fino a scontro. Sono riuscito a tirare fino a scontro. Sono riuscito a tirare fino a scontro. No! Fermi. Come ho fatto? Come ho fatto? Ma erano due PS! Ma non ho perso vita per tutto il... Ma com'è possibile? No, raga, dai. Non è possibile sta roba. Ma non lo so neanche... Non lo so neanche Bronzong come ho fatto a mandarmi giù. Bronzong, Bronzor. Chi cazzo è? Non lo so neanche io. Ma dai! Cioè, allora, raga... L'avete visto, eh? Cioè, avete visto tutti cos'è successo? L'avete visto? Cioè, erano... Sono stati... 5 PS! Si è suicidato. Aspettate, da questa parte delle scale che cazzo... No, raga, mi roda il culo perché... Porca di quella puttana. Allora, strumento. Ferra Artigli. Perfetto. Sarebbe stata bellissima per il nostro caro amico Blur. Anche se forse non si può reggere ancora su due zampe. Allora... No, no, no. Non mi sfidi, tu? No, non mi sfido, qua. Sempre a tre piedi, tu. Persino qui. Ti piace così tanto questo Team Rocket? Piuttosto... Chi era quel tizio col mantello e questo Pokémon di tipo Drago? I miei Pokémon sono stati stracciati. Non mi importa se ho perso stavolta. Se solo avessi dei Pokémon più forti. Non perderai mai contro di lui. È ciò che ha detto che non mi piace. Dice che non amo e non mi fido abbastanza dei miei Pokémon. Che rabbia perdere contro uno che va dicendo così tante cose insulse. Non ho letto bene, lo so. Non ho tempo da perdere conti più come voi. Ho sputato sul microfono. E mi tira un calcio, giustamente. Guardate! Oh, se questa qua è la pietra lunare, io ho quinto la serie. Ok, ho avuto paura. Draga, veramente, mi gira il cazzo perché non è giusto. Questo qua non è Giovanni. State pure tranquilli. Eh, ce l'hai fatta, eh. Quindi tu sei creepy. Come? Non sai chi sono io. Sono Giovanni. Il grande Giovanni. Ahaha! Come? Non gli assomiglio per niente. Dannazione, io che mi ero esercitato alla grande. Eccolo qua, il nostro caro amico Maxus. Io sono un generale del Team Rocket. Ho capito, sai? Volevi intrufolarti nella sala da trasmettitore di onde anomale. Ma non la farai, Franca. Quella sala, infatti, è bloccata da una password. Viva Giovanni! Non ti aspettavi che te la rivelassi come se niente fosse. Ma anche se conosci la password non puoi farci niente. Infatti la porta riconosce soltanto questa bellissima voce che io possiedo. Daniel. Daniel. Ma, cioè, Daniel. Tamer. Tamer. Fuji, ok, perfetto. Forse ho scelto il Pokémon giusto per sta battaglia. Allora, eh, sì, gli ho dato una voce un po' così a Maxus perché è un po' una matata, non sapete. Vabbè, comunque. No, in realtà non ce l'ho pensato che forse assomigliava un pochino a quella di CiccioGamer. Ma vabbè, dettagli, non è importante. Ok, raga, questo Togetic è l'ultimo ostacolo che... Brucia pelo, puntualmente. Ultimo ostacolo che ci separa dalla vita, tipo... Vai giù, vai giù, vai giù, vai giù, vai giù, vai giù, vai giù. E ovviamente non va giù. Uh, ritorno! Bruttissimo. Ah, ma tanto gli odi, tuoi Pokémon muori. Ciao, è stato un piacere. Perfetto, sconfitto. Tre anni fa il grande Giovanni ha sciolto il Team Rocket per poi scomparire. Ma sono certo che sta aspettando da qualche parte un'occasione di rivalsa. Ah, ah, ah. Perdere contro di te non mi fa né caldo né freddo. Tanto senza la mia voce... Neeeee, sì, il cazzo senza la tua voce. Guarda che voce sensuale che io sono su, cazzo. Ok, allora. Viva Giovanni! Marco imita la perfezione, la voce di Maxus. Mai quanto il creepy, mai quanto il creepy. Hashtag creepy doppiatore nei commenti, sì, il vuple. Ok, perfetto raga. Sto realizzando adesso che questo qua è il secondo episodio di fila in cui perdo un Pokémon. Non mi piace questo trend che sta prendendo la serie. Allora, per la prossima battaglia, allora, noi dovremmo avere dalla nostra parte il Dragonite di Lens. Quindi sinceramente metterei Brazzerina. Anche perché Brazzerina a volo. Io potrei puntualmente far schiattare tutti i Pokémon di Lens. Cioè, far prendere le botte a Lens in pratica. Io utilizzo volo e scialla. Cioè, dovrei in teoria cavarmela. Sì, guarda che lo so dove devo andare, brutto uccello del malaugurio. Allora, su di qua. Adesso se puntualmente sbaglio. No, ok, perfetto. Oh, lo sapevo dove dove devo andare. Eccoci qua, adesso arriva il bordello che ci vogliono stuprare a sangue. La password è VIVA GIOVANNI! Marco non grida... Eh, ciao, scusate. Marco non grida la password con la voce identica a quella di Maxus. La serratura di conoscimento vocale si è sbloccata, raga. Mettetelo che vi state bagnando tutti dopo aver sentito la mia perfetta imitazione di Maxus. Fermatili dove sei! Ah no, cazzo è Atena, ho sbagliato un po' voce. Non possiamo permettere a mocciosi della turisma di fare il bello e il cattivo tempo. L'orgoglio del Team Rocket non fa che subire colpo dopo colpo. Ed è quasi in frantumi. Perciò vediamo di darci un taglio, per quanto tu sia forte. Non potrai mai farcela contro noi due insieme. Ah, mi dispiace. Ma la tua... Aspetta, ero più una risolta tipo... Ah, mi dispiace, ma la tua è la fine. No, non so cosa ho letto. Un momento. La sfida 2 contro 1 è a dir poco un comportamento scorretto. Ma non c'è da sorprendersi, visto che si tratta di voi del Team Rocket. Con permesso. A questa lotta partecipo anch'io. Parte la sfida, ragazzi. Staraptor e Dragonite contro aiuto o paura dei Pokémon. Come saranno... Ma... Ma... Il... Il... Il piano Marshall! Tamer, giustamente. E poi Rachel Artis anche, ragazzi, sdoppia. Wishcast e Magby. Ma Magby, sì, colui. Lance, Lance. Allora, Lance! Lance! Potevi dirmelo! Potevi dirmelo! Ma perché Crowdant? Ma perché Crow... Allora, fermi. Supponendo che Crowdant attaccherà Magby, io faccio volo su Wishcast. Ok, perfetto. Ho supposto benissimo. Volo. Ho Sommerang su Crowdant. Ma non mandarlo giù. Ok, perfetto. Per fortuna, raga, che ci abbiamo un partner... Tappatevi le orecchie. Bello a tutti, Scempiette! Sono AmbyPon79. Ciao, Amby, se ci stai seguendo. Nel frattempo, mi fa piacere di averti distrutto... L'udito con il tuo saluto, ma... Sei morto, Amby? Che bello. Carta vetro di Amby, buon nemico, colpisce Crowdant. Non sapevo che avessi anche le carte vetro, figlio. Tappatevi le orecchie. Bello a tutti, Scempiette! Raga, ormai lo devo fare ogni volta che vi entri in campo. Non c'è molto da fare. Raga, doppio! Doppia scimmietta! No, ok, perfetto. Muro di fumo, sì. Io volo e me la scampo tantissimo. Ok. Iperzanna. Volo! Vai giù, vai giù, vai giù. No, non posso neanche switchare io. Aia, mi sta facendo paura. Io continuo a usare volo sperando che... Ok, perfetto, calciardente. Ora con volo dovrebbe andare giù questo Likiliki. Iperzanna su Crowdant. Che, vabbè, non è importante perché non è un mio Pokémon, lol. Acquaggetto addirittura, ma non mi lasci neanche il tempo di... Brazzerina a livello 35 nel frattempo. Perfetto, battuti, ragazzi. Cioè, aveva la doppia scimmietta, non so se mi spiego. Allora, adesso, ragazzi, dobbiamo scacciare gli Electrode. Ora, considerando che gli Electrode non sono randomizzati, io vado a sciallo di Gabite che c'ha Osomerang e via. E questa macchina ha la causa di tutti i problemi, ma non trovo l'interruttore. Non abbiamo scelta, dobbiamo sconfiggere tutti gli Electrode. Eh, sì, velocemente. E lo so che i Pokémon non ne hanno... Però poi non sono randomizzate le merda, quindi meritano di morire. Ok, perfetto. Vai, Gabite, al tuo momento. Che ore sono? 19.08. Forse ho tempo addirittura per registrare un altro episodio subito dopo questo. Magari mi vado a cercare subito un soprannome per Gabite. Allora, primo Electrode a casa. Perfetto. Secondo Electrode si suppone a casa. Vero? Ok, perfetto. E terzo Electrode at home, giusto per cambiare un po' idioma nazionale. Gabite? Ok, perfetto. Non mi tradire che sei un gran Pokémon, per piacere. Tra l'altro, ragazzi, non so se riuscirò ad arrivare alla Lega con Gabite evoluto. L'alternativa sarebbe allenare molto lui e gli altri lasciarli un po' e farlo tipo il perno della squadra. Però, oddio, deve ancora sopravvivere. Quindi... Posso... Gentilmente. Ok, perfetto. Mi si era bloccata la ROM. Strano, non succede mai. Dai, forza, veloce. Voglio uscire da questo posto qua. Adesso, ragazzi, uscendo da qua, in teoria dovrebbe esserci Elm che ci chiama dicendo che alla stazione radio è successo il bordello. Perché Team Rocket è arrivato e ha preso tutto. E sarà un problema, perché nel prossimo episodio dovremo fare proprio la Torre Radio. Panfilo. Ah no, non è vero, prima c'è la palestra, lol. Ci avete ragione. Ok ragazzi, quindi nel prossimo episodio vedrete la palestra di Alfredo e dopo ci sarà il rifugio del Team Rocket che suppongo di iniziare. Quindi io spero che il video vi sia piaciuto, se così vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, un commento qui sotto consigliandomi altre challenge e rispondendo alla domanda del giorno. E un'iscrizione al canale. Mi raccomando, passate dai social in descrizione per rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che concerne la mia esistenza. E prima di dare la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui feed. Ogni tanto YouTube decide di mandarlo in Bangladesh. Detto ciò noi ci becchiamo in un prossimo video.